L'associazione Progetto Endometriosi ha organizzato un convegno dedicato a questa malattia infiammatoria che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. Dove si svolgerà l'iniziativa e chi saranno i relatori? Abbiamo organizzato una conferenza di medici per parlare appunto della patologia endometriosi nella Pinalcoteca San Domenico di Fano, sabato 21 ottobre dalle ore 16. È una bellissima occasione per le donne che sospettano di avere questa patologia per avere delle informazioni in merito e per chi invece ha già una diagnosi di endometriosi è un'occasione per avere appunto le ultime novità in merito alle terapie, il sostegno e il supporto psicologico. Dunque saranno presenti degli specialisti? Esattamente, abbiamo in questa conferenza a Fano due ginecologi, il dottor Giovanni Delli Carpini dell'ospedale Salesi di Ancona, il dottor Pier Giorgio Stortone dell'ospedale di Fano e la dottoressa Federica Burattini, psicologa del consultorio AS di Iesi. Interverrà a mediare l'evento la nostra presidente Ape, Annalisa Frassinetti. L'ingresso sarà libero? Certo, l'evento è gratuito, la partecipazione può essere aperta a tutti. Per motivi organizzativi consigliamo di inviare una mail a marchechiocciolaapendometrosi.it